Sono dieci anni che i giovani democratici sono al fianco dell'Avis di Crotone. Anche quest'anno, anche con questo caldo infernale, e anche quest'anno e con questo caldo infernale sono riusciti a recuperare oltre 30 sacche di sangue. Ottima l'iniziativa è chapeau ai 30 donatori che hanno consapevolezza delle difficoltà che si incontrano, soprattutto d'estate, quando ospedali e strutture sanitarie hanno estremo bisogno di sangue. È un impegno che come Partito Democratico e giovani democratici portiamo avanti sistematicamente per far conoscere l'importanza della raccolta del sangue ma anche la semplicità delle donazioni. In Calabria il fabbisogno è sempre coperto dalle donazioni, ma se potete fatelo un ulteriore sforzo. Troppo importante, troppo delicata, troppo sentita la partita del sangue per restare impassibili. Questa è una giornata che è andata abbastanza bene, perché comunque ringraziamo gli oltre 30 volontari che sono venuti a donare, però purtroppo le condizioni del caldo hanno impedito a molti di loro di poter donare, quindi comunque è stata una buona giornata a livello di sacche raccolte. L'invito che noi facciamo sempre è quello di donare in tutte le occasioni. Spero comunque di continuare questa collaborazione che è sempre molto proficua.